Salve a tutti, in questo video vediamo come visualizzare i post a cui abbiamo messo mi piace o una reazione. Di lì vedremo che possiamo anche togliere quel mi piace o quella reazione. Andiamo sulla nostra home page di Facebook e qua espandiamo la freccettina e facciamo impostazioni. A questo punto clicchiamo qua sulle tue informazioni su Facebook. Adesso clicchiamo su accedi alle tue informazioni, visualizza. Ed ecco qua, adesso clicchiamo su mi piace e reazioni, post e commenti. Clicchiamo ed ecco qua tutti i vari post a cui abbiamo messo mi piace o una reazione. Noi possiamo anche rimuovere quel mi piace qua con la modifica, vedete c'è il modifica in tutti i post. Clicchiamo qua, mettiamo non mi piace più e il like o la reazione verrà rimosso. Ecco qua un esempio. Perfetto. Quindi molto molto semplice. Un saluto a tutti.